Buongiorno, Sandro Cane. Questo è un negozio di tè. Qua hanno il tè rosso, il tè verde, il tè nero, il tè bianco, di tutti i tipi. Il tè in Cina è una cosa culturale molto, molto importante. Infatti, nelle città normali, quando fanno affari, bevono tè. Alginin, purtroppo, bevono il vino bianco cinese, che si chiama Baigio, ma quello è un altro discorso. Come vedete qua, decorazioni. Il negozio è molto curato. Qua abbiamo anche, vedete, le decorazioni splendide. Qua sta arrivando la crew della televisione. e si va da prezzi, ecco, da prezzi, vediamo, i più economici, che saranno come tipo, speriamo che mi regalino il tè. Questo viene 40 euro, tipo, 40-50 euro questo, ma si va anche a prezzi più alti. Il tè di tutti i tipi, dal più economico al più costoso. Questa è la sala da tè, che fa da assaggio. Allora, secondo piano, abbiamo, comunque, delle sale private per l'assaggio del tè. Come vedete, molto di lusso il posto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!